Il 17 maggio 2016 nel comune di Perdifumo si terranno i festeggiamenti in onore della Santissima Maria del Rosario, organizzati dalla Diocesi di Vallo della Lucania e dalla parrocchia San Sisto II. È previsto un programma di diversi giorni festivi. Si parte 7 maggio con la rievocazione storica dell'arrivo del Crucifisso e della Stauta della Madonna del Santissimo Rosario. La partenza è prevista agli ore 14.30 da Piazza Municipio. Il giorno seguente, 8 maggio, si terrà il solenne novenario allo Spirito Santo e alla Madonna agli ore 18.30. Domenica 15 si terrà la Santa Messa di Pentecoste e in serata uno spettacolo musicale con piano barra, animazione e karaoke. Il giorno della vigilia della festa, il 16 maggio, è previsto il Rosario agli ore 18.30 e a seguire lo spettacolo musicale con il complesso I Sempreverdi. Il giorno della festa invece si comincia alle ore 9 con la Santa Messa e la serata sarà lietata dal gruppo musicale I Rotombe alle ore 21. Presente all'evento anche la banda musicale Città di Agropoli che accompagnerà la processione. Invece lo spettacolo dei fuochi sarà curato dalla ditta di Muoio Carlo di Vatolla. Il parroco e il comitato festa invitano tutti i pellegrini e i compaesani che verranno a venerare la Virgine Maria a vivere cristianamente questi giorni di festa accostandosi alla confessione all'Eucaristia, compiendo gesti di carità.